Progetto numero 12, Parco Alex Langer e il Parco Educato. Il Parco Alex Langer si trova a Pavia Ovest, in via Flare, vicino al Policlinico. È un'area di circa 4.000 metri quadri. Ultimamente è diventato ufficialmente un parco, oggi si tratta di un'area verde ben piantumata. Quello che noi chiediamo adesso con questo progetto è che vengano realizzate delle opere d'arredo per rendere fruibile, tipo fontanella, panchine, area wifi, che venga attrezzato con strutture gioco e svago per tutte le fasce di età, dai bambini piccoli anche agli adulti, che venga realizzato un'area cani regolamentata, in modo che chi la utilizza la faccia in modo responsabile, magari attraverso l'uso di tesserini, e che venga realizzato un ciclo di eventi educativi rivolti principalmente ai padroni di cani, ma aperti anche alle famiglie, in modo da sensibilizzare al rispetto degli animali e al rispetto del verde e della natura. Poi questo potrebbe diventare un progetto pilota da ripetere anche in altre zone della città.